Tra i piccoli e le piazzette del centro storico si fanno altri incontri curiosi certe volte, ma specialmente incontrando persone anziane che ti fanno sempre la stessa domanda. Quando te ne va? Non ci manca ne va. Iera passato piccato da un timbre che mancava il paese e tornava. Rob che la gente ti aveva salutato ha domandato e quando ti ne va? Facevano soldato, arrivava, riurna, ri licenzia. Salutava in casa e giva alla piazza. Pibrè l'amice. E subito domandavano e quando ti ne va? Gondrava l'amico tuo che stava alla Germania. Gli era tornata pure id la tua giornata. E quando non venivano domandavano pure id e quando ti ne va? Caspita! Gondrava. Ma allora mi cancellano solo con me. Vogliono proprio romani solo. E va bu. Valla dice che quando gli è pescai nasciamo. Grazie. Grazie, non so. Grazie.